Grazie per la vostra presenza. Avevo l'esigenza di comunicare il nostro punto di vista su un paio di questioni che si possono cucire tra loro. La prima questione riguarda la fine lavorativa dell'esperienza contrattuale di Muraglia, direttore sanitario dell'Aasi di Chiedi. Ma quello che ha determinato questa conferenza stampa è una lettera di risposta al sindaco di Vasto, il presidente della provincia di Chiedi, da parte del presidente della regione. Un presidente in scadenza, il quale realizza delle manganellate attraverso questa sua lettera nei confronti del sindaco di Vasto, nei fatti, dicendogli che non si deve permettere di rappresentare le esigenze del territorio dal punto di vista della sanità quando affronta il tema della conferma o meno di una bravura, di una competenza professionale riguardante la sanità. Io non condivido nulla di quello che ha scritto ma soprattutto il modo con il quale ha comunicato con un sindaco, mai è accaduto che un presidente di regione in Italia si sia comportato così corrispondendo documentalmente con un sindaco del territorio del quale pure il presidente della regione è parte comune, è parte che condivide ambizioni, obiettivi, progetti, addirittura si rappresenta come l'iniziativa assunta dal sindaco di Vasto sia una iniziativa strumentale, faziosa che descrive una certa idea di gestione del potere politico che apparterrebbe al sindaco di Vasto e non appartiene a questo corso della regione Abruzzo. Tutto è partito da una questione. Muraglia viene portato a fine contrattuale all'età di 65 anni e si cerca di spiegare questo che sarebbe accaduto poiché l'età avrebbe impedito. Se si voleva consentire a Muraglia la continuità della sua prestazione lavorativa fino all'età di 67 anni, bastava fare un gesto semplice. Prima del compimento dei 65 anni di età si determinava il rinnovo. Facendo in modo, per esempio, che si mettesse in campo un po' di quella determinazione che la regione Abruzzo ha messo in campo quando ha dichiarato guerra a Mancini, direttore generale della ASL di Pescara, o a Alfonso Mascitelli, altro servitore del sistema sanitario regionale. Quella determinazione per cacciarli l'uno e l'altro si poteva impiegare a favore dell'attività di lavoro nella sanità regionale nei confronti di Muraglia. Si trattava soltanto di cambiare verso, di canalizzare quella energia contrariante esattamente come è accaduto da parte della regione Abruzzo quando hanno preso di mira Mancini e Mascitelli. Sapete che fine hanno fatto le delibere con la volontà di cacciare l'uno e l'altro? Sono state sanzionate dal giudice del lavoro. Naturalmente io mi farò carico di ricordare alla Corte dei Conti che cosa è accaduto. Perché la Corte dei Conti sta riflettendo, noi faremo in modo che la riflessione della Corte dei Conti sulle sanzioni combinate da parte del giudice del lavoro nei confronti della regione quando ha interrotto le attività di Mancini e di Mascitelli, generando anche il risarcimento danni quel risarcimento danni adesso è giusto che evochi anche la lettura e il pronunciamento della Corte dei Conti. Non si è voluto fare questo nei confronti di Muraglia e si è scomodata addirittura la distinzione tra la politica e la gestione amministrativa. Intanto Muraglia era in esercizio come direttore sanitario organizzare un atto amministrativo che quando non era stato ancora compiuto il 65esimo anno di età era un atto che si poteva assumere nutrito anche dall'indirizzo del Comitato Ristretto dei Sindaci. Io sono stato Presidente di Giunta Regionale e quando il Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL di Teramo mi ha chiesto la conferma del Direttore Sanitario ho proceduto in quei termini, ho sempre ascoltato e nulla è accaduto non ho avuto dei giudici del lavoro che hanno sanzionato. Ma c'è un esempio ancora più eclatante quando la politica interviene stabilisce destini, colloca carriere. Mi è venuto in evidenza quello che ha voluto fare la Regione Abruzzo nei confronti di tal Dolphi. Dolphi è laureato in Scienze della Comunicazione, ha fatto importanti attività di logismo conclamato a favore del suo datore di lavoro precedente che è Bombardier ha partecipato ad una selezione dove si prevedeva come requisito la disintegrazione del requisito necessario dell'ingegneria per fare in modo che si potesse scegliere il direttore della direzione ferroviaria di Tua il bando non prevedeva la figura dell'ingegnere ma prevedeva qualsiasi laurea. A questo bando naturalmente arriva primo Dolphi in ragione del fatto che aveva appunto l'esperienza condotta con Bombardier come uomo delle relazioni e del legittimo impegnarsi in attività di logismo assume la carica di direttore della direzione ferroviaria e io voglio ricordarvi quali sono i compiti cui attende e garantisce il direttore della direzione ferroviaria di Tua con la laurea in Scienze della Comunicazione lo dice anche De Vita che è una laurea importante non però per fare il direttore delle ferrovie controllare e monitorare il rispetto degli obiettivi e standard qualitativi di servizio TPL attraverso gli indicatori di qualità e di performance connessi all'esercizio svolto coordinare i responsabili e gestori di processo fornendo indirizzi e linee guida coordinare e controllare l'esercizio e il trasporto ferroviario dal punto di vista anche del materiale rotabile nonché certificare la vestizione del servizio e la relativa consultivizzazione gestire le emergenze che si manifestano durante l'esercizio del servizio ferroviario ma che Dolphy sia potuto arrivare a cotanto merito conclamato è chiaro che la conseguenza della risposta ad un bando che aveva cancellato come requisito fondamentale quello dell'ingegneria prima di Dolphy c'era un ingegnere e prima dell'ingegnere prima di Dolphy c'era un altro ingegnere addirittura con specializzazione in ingegneria dei trasporti ma la cosa che conclama e chi mi aiuta e mi fa capire quanto Muraglia sia stato sfortunato ed è stato sfortunato perché non ha indovinato le frequentazioni è che Dolphy a un certo punto diventa anche tecnico esperto di fiducia del presidente e lo diventa Dolphy in un momento nel quale la direzione ferroviaria non ha ancora centrato un grande obiettivo finanziato dal Masterplan per l'Abruzzo 5,5 milioni di euro per la piastra logistica intermodale nella zona industriale della Val di Sangro e nella stazione di Saletti c'è da fare una perizia di variante da 4 anni e non si firma la perizia di variante io credo che la laurea in scienza della comunicazione possa essere utile nel sovraintendere ad una perizia di variante riguardante la piattaforma logistica allora io propongo un patto propongo una soluzione vengo dalla scuola dell'avvocato Giuliano Milia che prima di tutto è un civilista penalista penalista civilista propongo un patto recuperiamo Muraglia come direttore della direzione ferroviaria poiché nei fatti resta libera e magari Muraglia potrà firmare la perizia di variante riguardante la piattaforma logistica e sono convinto che questa si potrebbe meritare una lettera di segno comprensivo da parte del Presidente della Regione perché Muraglia non ha avuto la possibilità di questa curvatura di disponibilità perché Dolphy viene collocato sussunto come staffista del Presidente quando le emergenze riguardanti quella gestione testimoniano che tutto andava fatto salvo che sollevarlo da quella direzione così impegnata rispetto agli obiettivi del masterplan ma io aggiungo anche delle nuove partite del contratto di servizio penso che sia una questione di sensibilità di simpatia, di sintonia di frequentazione, di condivisione di obiettivi non credo che c'entri nulla di Bombardier io escludo categoricamente escludo uso il termine assoluto assertivo escludo che ci sia Bombardier però rilevo che c'è Muraglia che non è stato più tenuto in esercizio e Dolphy che assume due esercizi trascurando l'esercizio ferroviario e come lo rilevo questo? perché la piattaforma non si porta a conclusione perché non si redige la perizia perché mancano le risorse e perché noi perdiamo una grande dotazione infrastrutturale io chiederò al sindaco di Atessa di sollecitare questo facendogli una polizza assicurativa rendendo certo che alla sua lettera di sollecitazione della perizia di variante non dovrà accadere che arrivi come risposta una randellata con l'inchiostro che mai un presidente di regione dovrebbe sostenere se vuole randellare io mi rendo disponibile per un confronto con lui per vedere chi randella meglio argomentativamente sulla base degli obiettivi della regione chi ha fatto cosa come si poteva fare cosa in quali tempi editando inutili prove di squadrismo culturale quella lettera è un capolavoro di squadrismo culturale che arriva da un tale che nulla sa della comunità regionale mai nessun presidente di regione si è permesso di trattare male un sindaco non l'ha fatto Crescenzi che lui non sa chi è non l'ha fatto De Cecco non l'ha fatto Mattucci non l'ha fatto Giovanni Pace non l'ha fatto Piovi non l'ho fatto io che pure ho un carattere come si dice attratto dall'emotività argomentativa perché deve arrivare un tale che non sa nulla di questa regione e permettersi di trattare male un sindaco eletto e rieletto che solleva questioni collettive tralascio le promesse fatte di cui ci sono le prove anche negli atti processuali di nomine in vicende sanitarie che sono state promesse ancorché poi dimostrate senza profilo giuspenalistico essere assolti giuspenalisticamente per avere proposto un incarico sanitario essere assolti non vuol dire che il fatto non c'è stato il fatto c'è stato ma non ha avuto rilevanza penale spostatevi su Pescara a quello che è accaduto di recente ad un processo che si è concluso con una soluzione il tema era una promessa credo di un ruolo attorno alla direzione sanitaria che non ha avuto riconoscimento del profilo giuspenalistico ma il fatto è accaduto allora si ricomincia a rispettare i sindaci il sindaco di Vasto e i sindaci si ricomincia ad assumere il governo della cosa pubblica come una questione complessa che si fa insieme e si eviti di dolfizzare i ruoli pubblici riguardanti i diritti fondamentali perché se la questione è di entrare nelle simpatie non è previsto dalle leggi che per avere la conferma di un ruolo bisogna essere simpatici o corrispondenti e io escludo categoricamente che ci possa avere un ruolo l'attività magari fatta pregressa per questo quel portatore di interesse lo escludo se ci sono domande fatevele perché ho una grande voglia di dire e di rispondere alle randellate dello squadrismo culturale sapete oggi abbiamo la direzione di tua ferroviaria che è senza direttore perché è sottratto dalle esigenze del presidente spero che non mi dica che serve per l'approvvigionamento dei vettori ferroviari quindi attualmente Dolpi è diciamo nello staff del presidente di tua e con una curiosa delibera dove si dice che ha tempo ma non si quantifica il tempo poi lo ha salvato Bernardini quando dice che comunque fino alla fine della legislatura ma non era più logico che si determinasse a suo tempo la continuità di Muraglia fino alla fine della legislatura e chi arriva dopo riparte da zero perché organizzare queste questi vincoli riguardanti il futuro quando sta per finire la legislatura ci mancano 200 giorni sì e no bisognava avere la giusta frequentazione si poteva mettere in un avviso pubblico organizzate la giusta frequentazione con un avviso pubblico con un avviso pubblico con un avviso pubblico grazie a tutti